che noi cammelli siamo proprio brutti con questi peli sul muso. Ma che dici? I peli sono utili perché filtrano l'aria durante le tempeste di sabbia nel deserto. Ah, forte! Però quanto sono brutte le nostre zampe! Sono troppo grandi! Ma che dici? Le nostre zampe sono utili per non affondare nella sabbia del deserto. Ah, giusto! Ma le gobbe? Le gobbe sono orrende! Ma che dici? Le gobbe sono utili come riserva di cibo quando siamo nel deserto. Certo papà, io capisco tutto, la riserva di cibo, le tempeste di sabbia e quant'altro. Ma allora spiegami una cosa, che cavolo ci facciamo qui allo zoo?